ragazzoli buongiorno oggi vi faccio un video velocissimo su le creazioni che ho finito di montare che troverete su etsy e che vi ricordo che fino al 31 di gennaio avete il codice sconto per il 15 per cento di sconto casa nuova 2015 ma ve lo scrivo qui ve li faccio vedere veloce veloce cosa ho montato e come allora velocissimo un nastrino col portachiavi con un biscotto poi ho questi e tutta roba che avete già visto in vecchi video vi faccio solo vedere come sono finite e montate per la vendita sono tutte e quattro calamite sono in vendita lotti da due sul mio negozietto e poi ho queste due calamite e sono bellissime voilà e voilà vi ricordo che per questo modello per il baymax potete richiedermi un ordine personalizzato sia come calamite che potete chiedermelo in qualsiasi colore voi scegliate sia con i glitter che senza e come è montato come portachiavi quindi con la catenella o solo con il tondo del dell'anella portachiavi quindi così se vi sfugge come chiedermi il l'ordine personalizzato vi lascio qui il video dove spiego come comprare come richiedere le ordini sul mio negozio poi abbiamo questo portachiavi voilà con le stelline e la catena verde questo è abbastanza lungo come potete vedere ma è carinissimo devo ammettere che mi soddisfa parecchio una maxi calamita che questa qua poi abbiamo queste collane che non riesco mai a farvi vedere perché ciappi si ruba il nastro tutte le volte ho attaccato questo qua con il la marmellata e il cartone del latte il giro collo è tondo rigido ma mobile e la collana si sfila solo ed esclusivamente con la vite di una comodità infinita e comoda anche da tenere al collo e questa è una abbiamo se riesco a smontarla anche questa con il cartone del latte più grande in marroncino sempre con il giro collo in giallo abbiamo questa qua con un ciondolo bianco iridescente con le dolline e il giro collo è completamente azzurro sempre con la vite c'è questo portachiavi completamente bianco iridescente che adoro con due stickers brillucicosi questo braccialetto che sono ci sto ancora lavorando però questo è già finito con questi ciondolini completamente glitterato in argento e verde con una p e questo qua anche questo potete richiedermi questi modelli di ciondoli con le lettere di qualsiasi colore che li preparo al momento e due anellini in tinta diciamo in questo caso c'è una n e una g ma posso realizzarli come preferite e niente velocissimo video spero che le creazioni vi piacciono vi lascio il solito link per il mio negozio adazzi qua sotto e ci vediamo alla prossima ciao